Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Stelvio. I Celti facevano musica nel senso più ampio del termine, oppure si limitavano a canti tribali e religiosi? Intanto dobbiamo sottolineare che la maggioranza delle fonti storiche relative al mondo della musica è in qualche modo tangente alla sfera militare, e questo perché la guerra, essendo un elemento fondante della vita del mondo antico, gode di una serie infinita di riferimenti nelle fonti storiche, che vanno ad esaminarla nel dettaglio e insieme ad essa tutti quegli aspetti che vi sono collegati. Ad esempio Tito Livio ci dice che quei Galli che hanno sconfitto i Romani alla battaglia dell'Allia, quando riprendono la loro marcia contro Roma fanno risuonare le campagne del loro canto guerresco. Quadrigario ci dice che il campione Gallico, che si misura con Tito Maglio sul ponte Salario, prima dell'inizio del duello si esibisce in un canto di guerra, e addirittura in quella che sembra una sorta di danza armata. Polibio, parlando della battaglia di Talamone, ci dice che prima dello scoppio delle ostilità Taurini, Gesati, Boi e Insubri fanno rimbombare le valli circostanti dell'Europeana di guerra. Silio Italico, parlando dei Celtiberi che militano come mercenari al soldo di Annibale, ci dice che è loro uso cantare proprio mentre si lanciano in battaglia contro i Romani. Orazio, parlando di duemila cavalieri ausiliari gallici che durante la guerra civile tradiscono Marco Antonio per passare al servizio di Ottaviano, dice che celebrano il loro nuovo signore con un canto. Ed infine Tacito ci dice che il discorso appassionato del capo Caledone Calgaco, che viene fatto poco prima dello scoppio della battaglia di Monte Graupio tra le truppe celtiche e quelle romane di Agricola, viene accolto dai suoi soldati con dei canti celebrativi. Questi canti militari, queste ballate di soldati, potevano essere accompagnate anche da strumenti musicali. In particolare Strabone e Polibio parlano di una tromba da guerra che ha un suono particolarmente greve e terribile. Evidentemente si stanno riferendo al Carnix, effettivamente una tromba da guerra celtica di grandissime dimensioni, il cui padiglione era modellato a foggia di testa d'animale, spesso un cavallo o un cinghiale, altre volte un animale mitico. Il Carnix risulta un elemento caratteristico della cultura celtica, tant'è che viene raffigurato sia nella monetazione dei Celti sia in quella dei Romani, e in questo caso viene a rappresentare una spoglia di guerra. Nell'arte romana il Carnix è un elemento che viene utilizzato per caratterizzare le personificazioni delle province, come ad esempio la Pannonia che viene raffigurata nell'arte romana come una donna con accanto un Carnix. Infine il Carnix è presente anche nell'arte celtica ovviamente, come nel Calderone di Gundestrup, che sebbene probabilmente sia di produzione tracica evidentemente a dei committenti celtici e raffigura delle scene proprie della cultura della mitologia celtica. Da Sallustio sappiamo addirittura che Catulo, collega di Gaio Mario, alla conclusione della battaglia di Vercelle, che vede la sconfitta dei Cimbri, richiede come sua porzione personale del bottino una grande tromba da segnalazione, così ci dice Sallustio. Sallustio dice bene nell'indicare lo strumento come tromba da segnalazione. Infatti il Carnix, oltre che essere uno strumento che poteva accompagnare i canti dei guerrieri, sicuramente come funzione principale aveva quella di produrre stimoli sonori che andavano a far sì che i guerrieri sapessero in battaglia quali manovre dovevano eseguire. E noi questo lo sappiamo per certo da Giulio Cesare, che parlando della battaglia di Alesia, ci dice che gli assalti e le ritirate dei Galli sono appunto cadenzate dal suono di queste trombe da guerra. Quando abbandoniamo l'ambito militare e cominciamo ad analizzare la musica celtica in quella che è la sfera della vita civile possiamo incorrere in alcune difficoltà. Fortunatamente abbiamo tutta una serie di fonti storiche greche e latine alle quali ci possiamo appoggiare, e che vanno in maniera specifica ad analizzare una figura molto peculiare della società celtica, quella del bardo. Secondo Strabone Diodoro i Bardi erano una sorta di poeti lirici, di cantori che componevano inni e satire, e secondo Timagine, che ci viene riportato da Ammiano Marcellino, i Bardi componevano le loro canzoni con l'obiettivo principale di celebrare le gesta degli uomini illustri. Questo particolare lo ritroviamo anche in un passo di Posidonio, che riporta una vicenda a tratti comica relativa a un nobile celta e a un bardo. Posidonio racconta che il nobile gallico Lovernios organizzò un banchetto, e a questo invitò anche tutta una serie di Bardi con lo scopo di intrattenere i suoi ospiti con le loro canzoni. Purtroppo però uno di questi Bardi giunse sul luogo del banchetto troppo tardi, quando questo era già terminato. Allora immediatamente il bardo cominciò a comporre una canzone che contemporaneamente esaltava Lovernios e mortificava se stesso per la sua scarsa puntualità. Il nobile gallico, che stava abbandonando il luogo del banchetto ormai terminato sul suo carro, udendo la canzone del bardo, si divertì e decise ripremiarlo lanciandogli un sacchetto di monete d'oro. Il bardo prese velocemente il sacchetto e poi cominciò subito a comporre e cantare una nuova canzone, questa volta esaltando la generosità di Lovernios e paragonando le tracce lasciate dalle ruote del suo carro con dei solchi dai quali germogliava abbondanza e ricchezza per tutti gli uomini. Per quanto sicuramente divertente e godibile, il passo di Posidonio non deve trarci in inganno. I bardi non erano certo dei giullari, ma erano degli elementi fondamentali e molto importanti della società celtica, infatti insieme ai vati e ai druidi andavano a comporre la casta druidica. Di conseguenza alcune delle canzoni dei bardi dovevano avere anche una valenza sacrale e rituale. Oltretutto nell'epica irlandese la differenza tra canzone e incantesimo è molto labile, e leggiamo di bardi che compongono delle satire dirette a dei guerrieri e semplicemente cantandole riescono a ucciderli. Ma qual era lo strumento che i bardi utilizzavano per accompagnarsi nelle loro canzoni? Secondo Diodoro Siculo e Timagine si trattava della lira, ed effettivamente a Paul, lungo la Cô d'Armor, in Bretagna, è stata ritrovata una statuetta datata al II secolo a.C. che rappresenta un individuo con al collo il torquis, il caratteristico collare dei nobili celtici, e tra le mani quella che sembra proprio essere una lira, e che qui potete vedere riprodotta dal ricostruttore Gianluca de Santi, che saluto e ringrazio. Quella di Paul in realtà più che una lira sembra essere una chitarra, infatti ha sette corde invece di quattro, e una più ampia cassa armonica. La chitarra era una versione più complessa della lira, che era ritenuta dai Greci in realtà uno strumento popolare, al contrario la chitarra era ritenuto uno strumento altolocato, ed era questo effettivamente a quanto pare lo strumento proprio dei bardi. Noi troviamo la chitarra, e in alcuni casi anche la semplice lira, raffigurata su molte monete celtiche, ma in particolare la chitarra avrà in Britannia uno sviluppo molto particolare. Va detto che i Romani non sembrano apprezzare particolarmente la musica delle isole britanniche. Cicerone in una delle sue epistole ad Attico, parlando dell'impresa britannica di Cesare, la descrive sostanzialmente come una sciocchezza, dicendo che l'isola è difficile da raggiungere perché circondata da alte scogliere, e che oltretutto su di essa non vi è alcun tipo di ricchezza, e in questo Cicerone sbaglia molto, poiché sappiamo che la Britannia riforniva di stagno praticamente mezza Europa. Cicerone continua dicendo che quindi l'unico modo per far fruttare una spedizione in Britannia è il commercio di schiavi, ma conclude dicendo che sicuramente gli schiavi catturati in Britannia saranno inutili, poiché non sapranno nulla né di musica né delle arti. E questo è un dato interessante, poiché sottolinea come a Roma uno schiavo fosse di gran valore se era versato nelle arti, se era uno schiavo colto. Comunque a dispetto di quanto scrive Cicerone in realtà noi abbiamo diversi riferimenti e diverse evidenze che dimostrano come in Britannia la musica fosse ben coltivata. Ad esempio a City Hill, nello Yorkshire, sono stati ritrovati due flauti in osso, e un altro flauto, sempre in osso, è stato ritrovato a Glastonbury. Tutti questi reperti sono indicativamente datati tra il III e il II secolo a.C. Si tratta però sicuramente di strumenti musicali poveri, propri di una musica semplice. Al contrario la chitarra nelle isole britanniche si evolverà in Galles nella Crotta, in gallese Cruth, uno strumento musicale prima suonato con le dita, e poi invece con un archetto, e tutte le fonti storiche dell'epoca sono concordi nel dire che il suono della Cruth era gradevole, dolce e melodioso. Bene, questo è quanto, e se volete approfondire l'argomento nella descrizione del video troverete un link a un articolo molto interessante redatto dall'Associazione Popolo di Brig, che ringrazio. Poi troverete un link a un video dell'Essamble Bardos, una realtà francese che si occupa di ricostruire ipoteticamente la musica celtica, la musica gallica, e infine un link a un video dove potrete vedere e ascoltare il tremendo Carnix, la possente tromba da guerra dei Celti. E ovviamente se avete delle domande scrivetele nei commenti al video. Grazie!